Torniamo in cronaca con Burruto che prova a sistemare il pallone sul secondo palo, è un assist che è un cioccolatino Cuzzolino se lo mangia, dolce dolce, manda il pallone in fondo al sacco Attaccare l'area, la palla va in mezzo, Tony Dandelle, perfetto il movimento, perfetto il tiro, perfetto l'assist Poi l'argentino allarga per Onorio, ha molto spazio per controllare, calciare, poi trova il gol Umberto, Onorio un po' fortunato su questo rimpallo fra palla e portiere Ma l'ha fidato ad Onorio, sinistro educato per Cuzzolino, qua l'ha disegnato bene il tiro Cuzzolino si salva in prima battuta, il Todis non in seconda, il missile di Cuzzolino, vale il 7 a 0, doppietta per lui Sono arrivati anche il sesto e il settimo gol, ci prova ancora Cuzzolino Questo è un sinistro magico che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali più lontano Gran gol di Leandro Cuzzolino, tripletta